Celebrazione della liberazione a Città di Castello. Superata la pandemia, la ricorrenza del 25 aprile è stata caratterizzata dal ritorno del corteo pubblico che è arrivato alla stella dedicata alla Resistenza Alto Tiberina in Viale Vittorio a Veneto, teatro della rituale commemorazione a Caduti. Qui il primo cittadino ha depositato una corona di fiori alla presenza di altri membri della Giunta del Consiglio Comunale insieme a rappresentanti delle istituzioni locali, regionali e nazionali con l'accompagnamento musicale della Filarmonica Giacomo Puccini. È stata poi la volta del saluto della Presidente di Ampi di Città di Castello, Anna Maria Paciarini. Al termine della cerimonia, gli studenti dell'Istituto Polotecnico Franchetti Salviani sono stati i protagonisti della presentazione del progetto che prevede, tra l'altro, l'intitolazione Attina Anselmi della Rotatoria posta di fronte alle stelle dedicata alla Resistenza tra Viale Vittorio a Veneto, Viale Lopoldo Franchetti, Via Carlo Riviero e Viale Vittorio Emanuele Orlando. Nei nomi di un simbolo della democrazia quale è stata in vita Anselmi, da staffetta partigiana a prima donna ministro della Repubblica Italiana, Matilde Camaiti e Celeste Santanocchi hanno presentato, a nome dei compagni d'Istituto, il progetto sulla toponomastica femminile intitolato La Parità si fa strada, dopo la realizzazione su proposta di Spici G.L. Alto Tevere e Ampi Città di Castello, in collaborazione con l'Associazione Toponomastica Femminile. Anche la città di Umbertide ha celebrato e commemorato il 25 aprile, una data da un doppio significato, non solo il 78esimo anniversario della liberazione dell'Italia dal nazifascismo, ma vengono celebrati anche i 79 anni del bombardamento che ha causato le vittime di Borgo San Giovanni. Le celebrazioni sono iniziate alle 10, dalla piattaforma alla presenza dell'amministrazione comunale e partito il corteo accompagnato dalla banda Città di Umbertide, che ha sfilato per le vie cittadine. In piazza, 25 aprile, dove una volta sorgeva Borgo San Giovanni, è stata celebrata la messa dal vescovo Monsignor Luciano Paolucci Bedini e dai sacerdoti delle parrocchie umbertidesi, al termine della quale il sindaco ha portato un saluto istituzionale alla comunità, ricordando e salutando anche gli evacuati delle terremoto.